E' stata investita dopo essere scesa dall'autobus Grazia Vigorito, insegnante di 56 anni, originaria di Corletto Monforte che da tempo insegnava in Toscana. La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di ieri a Fornaci di Barga, in provincia di Lucca. La donna stava rientrando da scuola, appena scesa dal mezzo di trasporto per tornare a casa dalla famiglia e stata travolta da un'auto guidata da un giovane. Sbalzata a terra dall'urto con l'auto condotta dall'uomo, anche lui appena uscito da lavoro, ha battuto violentamente la testa ed è morta sul colpo. Subito il conducente ha dato l'allarme, ma purtroppo sono stati vani i tentativi dei sanitari intervenuti sul posto di strapparla alla morte. La salma della donna è stata portata all'obitorio di Lucca ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro. Una tragedia che ha scosso la comunità di Corleto e i paesi limitrofi, dove la donna era molto conosciuta ed apprezzata come persona.